Ciao lettrici e lettori, bentornati e bentornate su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e se mi ricordo come si fa oggi facciamo un video dopo un sacco di tempo che non ci vediamo esattamente dall'ultimo video che è quello sui saggini queer quindi è passato un po' di tempo. Visto che non ci sentiamo da un po' stelle, io spero che voi intanto stiate bene e se non è tutto ok, più o meno, insomma, siamo sulla stessa barca, vi capisco. Allora, visto che sono preparatissima, ho già Goodreads pronto per accompagnarmi nel video di oggi che come avrete letto dal titolo è il recappone di tutte le letture fatte fino adesso perché fondamentalmente, a parte recensioni singole, che credo ci siano solo in due casi e una recensione che, lo so, me la state chiedendo da mesi, cioè quella di Rule of Wolves e ve lo giuro che arriverà prima o poi, giuro, ok, in pratica sono qua a raccontarvi tutti i libri letti quest'anno devo dire che pensavo di essere messa molto peggio perché forse sarà tre mesi che non leggo nulla o quasi e quindi pensavo di essere nello sfacelo, però a parte qualche rilettura che figura nella mia listona sono 22 libri, ci togliamo un paio di riletture, stiamo su 18-19 libri, nonostante i miei ritmi di solito siano un po' più corposetti, ma comunque partiamo da tutti i libri letti quest'anno direi che ci siamo, quindi partiamo. Primo titolo che ho letto quest'anno e che, diciamo, forse ho accennato davvero con grande velocità è The Midnight Lie di Maria Rutkowski. Sapete, se mi seguite da un po' di tempo, immagino, sapete dovreste, però non è detto che lo sappiate, in pratica Maria Rutkowski è l'autrice di The Winner's Course che è anche stata tradotta in italiano, che secondo me è una serie estremamente piacevole Maria Rutkowski è forte di una scrittura davvero davvero molto solida, molto elegante e secondo me lei racconta molto bene la psicologia dei suoi personaggi, soprattutto delle sue personaggi, devo dire e Midnight Lie è legata in qualche modo a Winner's Cursed, ma in una maniera che possiamo dire quasi intangibile secondo me è il tipico libro che può essere letto anche da persone che non hanno grandi riferimenti della sua prima serie, è una mia impressione, però insomma è un libro che a me è piaciuto abbastanza nel senso che non lo trovo estremamente brillante come Forse Winner's Cursed perché il tema tende a ripetersi, in pratica è una storia che peraltro secondo me doveva essere puramente autoconclusiva perché in un libro si riusciva a raccontare bene quello che è il messaggio che l'autrice voleva fare passare però tende un pochino a rimarcarlo così tanto e in così tante scene, in così tanti modi che forse secondo me non ce n'era così bisogno, è l'unico difetto che io trovo fondamentalmente a questo libro fondamentalmente The Midnight Light è ambientato ad Errat, in questa storia noi seguiamo assolutamente una società che è fortemente divisa in quelle che potremmo definire caste ma comunque insomma c'è una divisione sociale estremamente rimarcata che condiziona ogni aspetto della vita la nostra protagonista Nirrim in questo caso appartiene alla classe sociale più bassa e chiaramente quella con più limitazione all'interno di questo mondo e di questo spazio che fondamentalmente secondo me Marie Rutkowski riesce a rappresentare estremamente bene perché ti dà per tutto il libro la sensazione che ogni passo di Nirrim sia condizionato cioè i suoi spostamenti sono estremamente circoscritti che secondo me è un'ottima rappresentazione anche della libertà individuale e come alcune soggettività anche nella nostra ovviamente di società che non hanno sicuramente le stesse libertà individuali di tante altre persone penso semplicemente alle persone senza documenti penso alle persone non bianche, penso alle persone non ricche penso alle persone che hanno difficoltà motorie insomma c'è tutta una serie di cose che secondo me sono molto rappresentative anche della nostra società in una maniera però molto furba perché è tutto molto mostrato e mai raccontato proprio perché Nirrim deve in qualche modo per sopravvivere cercare di uscire fuori da tutto ciò che è lecito da tutto ciò che le è stato consentito fino a quel momento e cercare di sperimentare un pochino grazie a questo incontro fortuito con una figura misteriosa che arriva da fuori città e che la costringerà in qualche modo a fare il salto fuori dall'uscio di casa ecco, in una realtà che chiaramente per lei è estremamente oppressiva che però fino a quel momento probabilmente con grande candore grande purezza Nirrim non aveva mai percepito con forza quanto tutto ciò che le accadeva e le succedeva attorno fosse per lei inaccettabile ecco, anzi era quasi in una situazione dove fondamentalmente Nirrim pensava che quello era anche un po' giusto forse se anche non era giusto le stava anche bene e questo secondo me nei Midnight Lie questa sensazione del non riuscire più a vedere le cose con gli stessi occhi di prima e superare anche in qualche modo una fase quasi naive quasi di ristrettezza di vedute magari anche di immaginazione di sé lo riesce a fare molto bene quindi insomma, velocemente secondo me The Midnight Lie è un'opera che ripercorre sicuramente i punti chiave di Margaret Rutkowski perché comunque c'è tantissimo romance ma tantissimo inteso come non quello, cioè l'ho letta io quindi fondamentalmente se fosse un romance dall'inizio alla fine non me ne fregherebbe nulla però in realtà è tutto un romance perché la concezione di questa storia comunque è volta a raccontare come due personaggi si avvicinano tra loro nel corso del romanzo come in qualche modo sia questa un'esperienza per entrambe che ovviamente avrà dei risvolti che Nirim ci racconterà bene attraverso le sue sensazioni che secondo me sono una delle parti migliori del libro tra l'altro è estremamente credibile ciò che provano, ciò che sentono le sensazioni che nemmeno si riescono a spiegare ecco, e quindi non lo so questa parte qua che sicuramente è un po' questa costruzione del personaggio e delle personagge attraverso cui Maria Rutkowski già ci aveva abituato perché fondamentalmente è anche ciò che succede in The Winner's Curse qua lo riprende, questo stile di scrittura ripeto davvero molto forte, elegante, compatto che accompagna estremamente dentro la storia c'è tutto come ci sono anche tanto le tematiche le tematiche che riguardano l'aprire gli occhi che cosa significa effettivamente riuscire a vedere ciò che ti circonda con degli occhi diversi ecco, che forse non sono i tuoi in quel momento è estremamente riuscito secondo me ecco, forse se devo trovare un pochino il difetto di questo libro è che io l'avrei visto perfetto come una short story forse qua è un po' tirato in alcuni punti però allo stesso tempo se vi è piaciuta Rutkowski in passato vi piacerà sicuramente anche adesso poi c'è una solida storia FF che non fa mai male nel panorama young adult con delle sensazioni peraltro credibili dei discorsi credibili tra di loro in un contesto tra l'altro abbastanza forte assurdo, in parte distopico per noi ma che non percepiamo nemmeno con tutta questa distopia ecco, insomma io gli ho dato quattro stelline perché la scrittura è ottima le personaggi sono solide la storia secondo me riesce a rappresentare bene ciò che è il messaggio che vuole comunicare anche questa distorsione anche questo distanziamento della nostra protagonista dall'idea quasi di innocenza ma innocenza inteso come il non avere esperienza a sufficienza della vita per me è riuscitissimo quindi assolutamente promosso dopodiché io ho letto A Court of Silver Flames ma io direi che voi sapete già cosa ne penso perché c'è una mia recensione al riguardo è un libro che non è solo brutto mi ha fatto proprio anche arrabbiare tanto perché ci sono coinvolta in troppe tematiche che secondo me sono proprio state trattate lanciando i dadi non che mi aspettassi diversamente in fondo è Sarah J. Maas quindi si sapeva però pensavo un filo meglio invece no e quindi colpa mia che l'ho anche letto direi che ora posso mettermi l'anima in pace e questa serie dargliela su definitivamente poi dopodiché ho letto A Dark and Hollow Star che è un debutto che io avevo trovato su Netgalley che mi aveva ispirato perché lo paragonavano a una sorta di storia un urban fantasy un po' trash d'altronde urban fantasy il livello di urban trash è alto di solito però in un mondo queer e quindi alla fine quante volte ti capita di leggere una trashata fantasy con tutte queste personaggi e questi personaggi queer raramente perché in pratica a me ha convinto devo dire perché alla fine è una cosa leggerina che io ho percepito come leggerina forse per i miei standard sicuramente però dove fondamentalmente emergono una storia che è di conflitti tra varie razze tra ci sono insomma tutte varie creature che sono ovviamente in scontro tra di loro personaggi e personaggi e personaggi che sono molto diciamo in conflitto tanto fuori quanto con se stessi è una lettura secondo me abbastanza leggera so che non è così per tutti quindi io metto le mani avanti e insomma cosa dire siamo in un mondo fantastico ci sono tanti scontri ci sono anche dei percorsi di identità personale di ricerca di se stesse grande libertà nelle personaggi nel vivere la loro sessualità ma anche altri aspetti quindi insomma io l'ho trovato un buon debutto di Ashley Shuttlesworth che sicuramente non è la migliore scrittrice di questa terra però ha fatto il suo quindi insomma io se volete qualcosa di leggerino un po' trescino ma con almeno non solo copie etero questo è il libro per voi ok siamo ancora nell'ambito marzo quindi secoli fa perché in pratica sì fino tipo ad aprile io ho letto poi dopo è successo il downfall totale il Kraken si è impossessato del mio cervello quest'anno e io non ne esco da questa cosa dopo questa serie di tresciate ho letto invece dei libri molto più seri ma decisamente bellissimi e in questo caso il primo è chiaramente The Transition Baby di Torrey Peters The Transition Baby è un libro bellissimo bellissimo cioè è magnifico ok in pratica è The Transition Baby e non vi lasciate fuorviare dal titolo perché quando si parla di detransizione in ambito transgender è un tema molto spinoso perché chiaramente l'ambito della detransizione ovvero lo smettere il percorso diciamo che porta la persona trans diciamo ad assumere farmaci o comunque a vivere il genere eletto ecco diventa un ambito molto spinoso in quanto molto spesso viene presa come prova da parte di moltissimi gruppi non solo diciamo estremisti contro le persone transgender ma anche ad esempio dalle TERF il grande tema della detransizione è lo strumento preferito delle TERF per dire vedete che alla fine avevamo ragione e quindi diciamo che quando mi hanno proposto di leggerlo io non sapendo nulla sul libro ero un po' preoccupata poi l'ho letto e poi l'ho letto e mi sono rassicurata tantissimo in pratica The Transition Baby è un titolo che fa tante cose non so come raccontarvelo senza entrare troppo negli spoiler però in pratica noi fondamentalmente seguiamo tre persone transgender e cisgender Ames che fondamentalmente è la voce narrante principale è una persona che aveva compiuto un percorso di transizione diventando Amy però a un certo punto ha deciso di tornare indietro fondamentalmente di detransizionare non so neanche se esiste in italiano come termine detransizionare comunque di tornare indietro mi sembra la cosa più chiara da spiegare perché vivere da persona transgender da donna transgender per Ames era troppo duro e il motivo per cui ha compiuto la transizione al contrario quindi tornando indietro è un motivo personale che però non è legato al suo rifiuto o nel non riconoscersi come donna trans Ames è una donna trans ma vivere da donna soprattutto da donna trans è stata un'esperienza terribile e questa durezza per ciò che ha provato ciò con cui si è fondamentalmente confrontato in queste esperienze è stato traumatico e per questo ha deciso di tornare indietro spiegando che ovviamente è il motivo per cui moltissime persone decidono di tornare indietro a volte perché ci sono ovviamente degli errori da parte di chi segue a volte perché ci sono anche dei percorsi non del tutto chiari e forvianti sicuramente ma soprattutto perché vivere da persona transgender è molto dura in tantissimi casi soprattutto nell'epoca in cui è cresciuta Ames e quindi si scontra con questa grandissima difficoltà oltre ad Ames però ci sono anche due figure chiave una è Reese Reese è una figura che per Ames è stata fondamentale intanto è la sua ex ragazza sono state insieme ma a un certo punto Ames ha deciso di fare il passo indietro e di lasciarla di abbandonarla e Reese per questo distacco è piombata anche in una spirale autodistruttiva per tanti versi in più non riesce ad avere una relazione normale ricerca assolutamente solo relazioni problematiche tossiche con uomini sposati quasi più a confermare se stessa che a vivere veramente qualcosa per se stessa e dall'altro lato c'è Katrina che è la capa ma anche la nuova amorosa di Ames che a un certo punto rimarrà incinta e mentre per Reese il desiderio di maternità è un desiderio fortissimo che ha sempre avuto che ha anche allontanato Ames Katrina invece non ha assolutamente intenzione di avere un bambino non era nei suoi piani e questa cosa la turba profondamente e quindi si instaurerà fra le tre personaggi una sorta di progetto folle che le farà arrabbiare tutte e che creerà tantissimi conflitti tra di loro il motivo per cui ho adorato The Transition Baby al di là della storia in sé è che effettivamente riesce a rappresentare con gli occhi stessi di persone transgender tramite la loro storia le loro voci personaggi e personaggi complessi comunque che non sono solo intanto la loro transizione non sono solo la loro storia di genere ma che chiaramente vivono una conflittualità totale cercano in qualche modo di confrontarsi con anche le sensazioni che vivono in una maniera molto complessa e stratificata ecco non viene banalizzato nulla è vero che la storia è molto diretta la storia fluisce davvero con grande facilità e arriva con forza allo stesso tempo tutte le riflessioni che cogliamo attraverso le parole delle personaggi e dei personaggi estremamente unico forse è un libro che in questo senso riesce davvero a regalare a chi lo legge la sensazione di avere di fronte delle persone che discutono con te di ciò che gli passa per la testa e questo è fortissimo in questo libro che pone anche diversi dubbi sul concetto di famiglia sul concetto di relazione su come le persone trans si rapportano con questa quest'area che tendenzialmente non esce fuori dalla comunità o non vuole essere scoperchiata per soprattutto the straights cioè le persone etero perché fondamentalmente ci metterebbe di fronte a una serie di dubbi a una serie di questioni e a una serie di risposte che magari le persone trans stanno ancora elaborando magari che già hanno ma che tendenzialmente si sentono come se fossero escluse da ogni tipo di discussione perché lo sono ok e non lo so però ho trovato l'onestà l'umorismo anche banalmente l'umorismo mi ha spaccata in due di questo libro l'onestà il trasporto con cui ci sono spesso questi flussi di coscienza a volte un po' didattici in alcuni punti però capisco che bisogna spiegare the straights le parti non straight però allo stesso tempo efficace fresco molto spontaneo e questa cosa qua per me è molto molto potente io l'ho adorato l'ho trovato una bomba assoluta e se vi sentite a disagio quando leggete questo libro è normale perché non siete persone trans e quindi probabilmente vi porterà a riflettere anche su certe cose che non avete visto che avete dato per scontato che forse non avete prestato abbastanza attenzione e abbastanza cura anche alle persone trans vicino a voi che magari queste cose se le sono anche chieste che forse voi avete un po' derubricato e con voi mi ci metto anch'io ecco su alcuni aspetti magari più formali o magari più dubbi ecco ma per me questo libro è una bomba è bellissimo e non vedo l'ora che venga tradotto perché è veramente chef kiss ok dopodiché dopo The Transition Baby io ho letto Rule of Wolves io ho dato quattro stelline e mezzo Rule of Wolves perché allora non voglio fare una recensione di questo libro perché non ne ho voglia di parlarne in maniera superficiale perché secondo me non è giusto allora andrò per punti veloci a me ha convinto soprattutto perché a livello di esperienza di lettura è stato il mio libro preferito di Libertugo lo dico perché secondo me dal punto di vista della qualità del tipo di scrittura è molto alto e essermi goduta per una settimana questo libro mi ha proprio dato un'esperienza assolutamente valida posto che ci sono dei buchi di trama delle cose risolte delle cose che non tornano dei retcon che non condivido è ok ma il risultato di alcune cose per me è stato comunque efficace è stato comunque a prescindere un'ottima esperienza di lettura e io mi auguro di farne tante altre perché comunque rimane secondo me dal punto di vista della scrittura la migliore autrice in circolazione per l'ambito young adult perché magari ci sono storie che sono andate meglio dal punto di vista del come doveva risolversi ma io non leggo i libri perché la trama mi deve tornare tutta non so come dire perché se poi gli manca l'esperienza di lettura allora a me non me ne frega niente detto ciò a parte quello ci sono cose che a me hanno convinto tantissimo mi sono piaciute moltissimo alcune parti ad esempio tutta la storyline di Zoya mi è piaciuta la consapevolezza di Nicola in diversi punti anche se avevo preferito i pipponi mentali di King of Scars perché noi amiamo i traumatized baby essendo traumatized babies basta fondamentalmente cioè non lo so l'effetto che ha generato su di me è estremamente più positivo che negativo mi rendo conto che io gli ho dato un voto molto alto che non si merita assolutamente però io spero di fare tutte esperienze di lettura così dove magari c'è un po' di buco di trama ma a livello di scrittura magnano in testa chiunque e quindi detto onestamente così non lo dico solo perché sono fan a prescindere a tutti i costi però davvero io sono stata bene dopo aver letto Rule of Wolves e mi è mancato mi è mancato tantissimo dopo quindi capisco tutte le critiche sono anche sicuramente super lecite moltissime le ho fatte anch'io solo che è il risultato che per me comunque è stato un po' diverso cioè nonostante tutto quindi niente questo è quello che vi dirò per ora su Rule of Wolves e ci rivediamo nel dettaglio per la recensione dopodiché io ho letto vietato scrivere di Joanna Russ nell'edizione italiana poi c'è una prefazione di Jessa Crispin che secondo me è giustissima super puntuale e poi in fondo una postfazione di Nicoletta Vallorani e noi qua siamo bimbe di Nicoletta se non si fosse capito a sufficienza e quindi vietato scrivere è un libro che io consiglio tantissimo vi consiglio la mattina la sera col caffè latte con il tè con i biscotti con la pasta asciutta sembro scema e lo sono effettivamente però vietato scrivere è un libro che a me è piaciuto tantissimo allora alcune dinamiche chiaramente ad ora ci sembrano quasi no poi sto sbagliando perché ho visto le discussioni che ho avuto in questi giorni sto mentendo dicendo che comunque le abbiamo comunque capite no non abbiamo capito una sega proprio vabbè quando Joanna Ross ha scritto vietato scrivere non gliel'hanno nemmeno pubblicato chissà come mai gliel'hanno pubblicato dopo diverso tempo ma è un libro possiamo dire un po' rivoluzionario da certi punti di vista perché indaga come l'accesso alla scrittura alla pubblicazione eccetera eccetera sia stato precluso alle donne e tutti i modi in cui sia stato precluso alle donne nel corso della storia soprattutto concentrandosi molto sull'ottocento più che nei periodi precedenti però dall'ottocento con una riflessione sui primi 50 anni del novecento anche molto corposa indagando tutte quelle dinamiche che hanno portato fondamentalmente le donne al mancato accesso alla scrittura e tuttora ad essere completamente escluse da ciò che viene considerato vera letteratura perché le donne fondamentalmente non possono scrivere qualcosa di universale lo fanno solo i maschi bianchi eterocis abili è bellissimo io pianto metà del tempo ma questo non è una cosa di valore me ne rendo conto per tutti però vietato scrivere è potente per diverse cose a partire da ciò che jessa crispin scrive nella prefazione dicendo che a noi sarebbe stato davvero molto più comodo pensare che le donne non abbiano mai scritto o che non abbiano mai scritto qualcosa di valido che quindi non siano presenti nei nostri programmi scolastici che non le riteniamo sufficientemente brave quando leggiamo le loro opere che sono così poche rispetto agli uomini perché fondamentalmente non avevano intenzione di scrivere e sarebbe stato molto comodo perché così poi confermiamo anche un nostro grande bias cioè quello di pensare che le uniche persone che hanno scritto effettivamente cose valide e rilevanti per l'umanità siano stati gli uomini eppure le donne hanno sempre scritto che la loro scrittura è sempre stata soffocata soffocata da un lato dai ruoli di genere perché quando sei donna soprattutto fino alla prima metà degli anni 50 ma possiamo dire che non è che ora sia cambiato fondamentalmente perché il lavoro di cura si sommava al lavoro nel novecento prima invece la donna era relegata nello spazio domestico dove poteva al massimo ambire alla cura dei figli in più nessuno le avrebbe pubblicate nessuno le avrebbe pubblicate con il loro nome vero e tante 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 altre dinamiche interessanti che qua troviamo tutti gli impedimenti che da un lato sono psicologici dall'altro tutti gli agenti che hanno impedito alle donne di scrivere o che hanno limitato la loro scrittura o che ne hanno impedito la loro divulgazione sono indagati benissimo in questo volume perché alcuni sono di tipo psicologico altri sono di tipo sociale altri di tipo economico banalmente e tutta un'altra serie di input secondo me potete leggere vietato scrivere così ne parliamo per tipo sei ore insieme scrivetemi un messaggino qua su instagram vi prego è un libro magnifico io ora lo voglio citare per sempre e leggete vietato scrivere di Joanna Ross e poi se riusciamo a tradurre anche The Female Man di Joanna Ross Tiffany è molto felice perché Joanna Ross tra le altre cose oltre a una pazza kamikaze che voleva assolutamente parlare di cose semplici ciao pipì è arrivato pipì vabbè Joanna era una pazza che ha scritto cose pazze e fantascientifiche e non solo e io l'amo tanto e sono così felice che questo libro sia qua e ve lo suggerisco tanto 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 basta andiamo avanti dopodichè Bao mi ha mandato un fumetto che si chiama Pelle d'uomo di Hubert e Zamzim spero si pronunciino così non lo so è una storia che racconta una storia medioevale di come fondamentalmente gli stereotipi di genere e vivere nella pelle di un uomo possa cambiarti e completamente stravorgerti la vita ok è una storia che a me è piaciuta molto perché intanto è molto giocosa quindi vediamo proprio anche come diventare un uomo sia per la nostra protagonista in questo caso ovviamente semplicemente travestendosi ecco una una modalità attraverso cui scoprire il mondo scoprire il proprio corpo la propria sessualità viverà pieno qualcosa soprattutto il rapporto con il marito che da donna la ignora completamente da uomo invece si trasforma ecco e quindi diciamo che è una storia estremamente carina che io consiglio io insomma l'ho letta in mezz'oretta e ne sono uscita col sorriso quindi sicuramente ve lo consiglio è molto semplice accessibile mostra con grandi estremi e con un escamotage molto furbo pipì dove vuoi andare ok come ovviamente le disuguaglianze di genere siano fortemente costringenti soprattutto vabbè qua c'è una società di stampo rinascimentale quindi siamo su un ambito molto più più marcato ma non è che ora sono sparite queste differenze lo sappiamo bene e poi è carino l'escamotage cioè quello del travestirsi proprio con questa pelle tramandata di famiglia che appena messa diventa tipo un costume da spiderman e ti fa diventare un uomo dopodiché ho letto che mi aveva mandato diverso tempo farizzoli volevo finire la mia collezione di Nina Bunievak perché effettivamente è un artista che mi sta piacendo tantissimo letto senza cuore che fondamentalmente è una raccolta di diversi momenti sparsi diverse storie frammentate che riguardano insomma donne storie di donne storie di donne emigrate storie di donne con legami con la cultura est-europea di diversi punti ecco e io mi sono un po' innamorata di lei quindi devo dire sono molto di parte sono molto di parte perché Nina Bunievak mi ha veramente in qualche modo un po' stregata e ho recuperato un po' tutto mi manca da leggere praticamente quella che è la sua autobiografia che tra l'altro è interessantissima perché è una personaggia proprio lei e quindi niente devo dire che questa è una raccolta di racconti quindi diciamo che con questo stile molto netto perché tutti i suoi disegni sono in bianco e nero sono queste scene quasi pulp quasi non so come dire quasi frank milleriane ma con uno stile completamente diverso però con quello stampo lì Bunievak cresce comunque a introdurre con questo humor super nero amareggiato e amaro questioni socio-economiche questioni di genere estremamente tangibili violenza ma non solo rapporti familiari il casino delle relazioni tossiche delle relazioni in generale in maniera estremamente brillante divertente quindi così adesso devo recuperare Fatherland ripeto e sono molto 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 curiosa poi ho letto due romanzi contemporanei che tra uno mi è piaciuto un sacco e l'altro per me è stato orribile ma adesso ci arriviamo ovvero il primo è L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Camminito allora a me L'acqua del lago non è mai dolce è piaciuto molto per diversi motivi intanto la storia segue la nostra protagonista Gaia che viene da una famiglia dove lei è cresciuta fondamentalmente con la madre nell'indifferenza paterna per una serie di motivi una famiglia super povera che nella quale io mi sono anche riconosciuta tanto nelle dinamiche nel rapporto con la burocrazia ci sono punti proprio dove rivedevo tante cose del mio passato quindi devo dire c'è anche un tipo di affezione nell'averle scoperchiate ecco e la nostra protagonista fondamentalmente rappresenta ciò che è la sua vita fin dall'infanzia nel rapporto con queste difficoltà nell'introduzione anche alla tecnologia i primi amori le prime dinamiche di gruppo la percezione del proprio corpo cioè c'è tanto dopodiché Gaia cresce si confronta anche con il rapporto con la città venendo dalla distanza tutto ciò che riguarda quei piccoli frammenti quotidiani del suo vivere e come fondamentalmente il senso di tutta la sua esistenza sia non trovarsi mai a proprio agio in nessun luogo in nessun posto come se non appartenesse fondamentalmente al nulla però fondamentalmente questo non è assolutamente un libro che va letto per la trama e mi sono già anche rotta le bale di raccontarvela perché invece secondo me la cosa interessante della scrittura di Camminito e secondo me questo è ottimo come audiolibro è la sensazione di trovarsi di fianco a un'amica che vi racconta una serie di disgrazie pensieri riflussi di coscienza senza avere un freno vero e proprio e che fondamentalmente non può darvi una soluzione o dirvi qual è il suo problema perché fondamentalmente non lo sa non ce l'ha e sta cercando tramite questa elaborazione orale di mettere le cose in fila forse in fila non lo sono mai e forse il fatto che non siano mai in fila è il senso stesso del romanzo non ha senso ma a me è piaciuto tantissimo un sacco anche il fatto che emergano soprattutto gli aspetti più aspri della personalità della protagonista che sono esattamente un parallelo con la risposta che il mondo le ha sempre dato fondamentalmente io l'ho trovata super calzante c'è della cattiveria generale c'è la mancanza di sostegno quando in alcuni punti c'è assolutamente c'è questa dualità tra ciò che bisogna fare esternamente per riuscire a sopravvivere ciò che si è in realtà quasi a vivere quel marciume dentro che ti si appiccica addosso e sembra che non te ne puoi liberare mai no e che in fondo quella è la tua vera verità il resto mi è piaciuto tanto tanto siamo matta come si fa a gestire un carai youtube quando avete a che fare con sta cialtrona vabbè ecco venendo da un libro che mi è piaciuto un sacco passiamo a un libro che secondo me ok l'operazione commerciale che comprendo bene perché tocca pagare gli stipendi ma ho letto anche il libro di camilla boniardi tutti i miei sbagli no per tutto il resto dei miei sbagli scusate mi ero rimasta di subsonica allora che dire prima cosa non è un giudizio sulla persona ci tengo come sempre perché non mi interessa però ero curiosa di leggerlo visto che comunque si era parlato molto di un libro con un grande impianto letterario che c'era stato tutto uno studio dietro che si forzava io ho molti dubbi nel senso che qua secondo me intanto manca un editor e un editing perché è molto problematico dal punto di vista strutturale della scrittura ci sono degli spunti che sembrano un po' forzatini si riconosce troppo che spesso è come se Camilla parlasse come Camille e dentro la scrittura questa cosa secondo me non funziona granché che è vero che è riconoscibile per i suoi stilemi vocali colloquiali del parlato ma è vero che dentro un romando secondo me non funzionano in più una storia che sinceramente non capisco cosa possa raccontare effettivamente al suo pubblico cioè è un po' come Sally Rooney con Normal People eccetera fondamentalmente in salsa italiana a me non è piaciuto per nulla Normal People metto le mani avanti però questo ovviamente non ha la stessa forza dal punto di vista della scrittura che per me lo dico ad alta voce Normal People è uno young adult che però è stato venduto come se non fosse uno young adult ma gridato al miracolo è nella linea di qualsiasi contemporary young adult uscito ma non voglio scavarmi la fossa di fronte all'orda di fans e questo in realtà non è compatto dal punto di vista della scrittura come magari i Rooney ma è un po' quel tipo di storia lì quindi una storia che è distaccata dal tempo che secondo me rappresenta poco anche ciò che è la dimensione attuale però che ti dà questa dimensione un po' nostalgica un po' vintage come del mai vissuto e tra l'altro è super mega autobiografica non lo so io sinceramente non ci ho trovato grandi spunti a livello tematico non ci ho trovato una buona scrittura e non ci ho trovato l'editing ma questo è un parere oggettivo e soprattutto diciamo che non ci ho trovato neanche un'intenzione letteraria devo essere molto sincera quindi boh tendenzialmente direi che i miei pensieri sul sono qua sono questi ero curiosa di capire perché fondamentalmente se ne è parlato anche tanto e anche molto bene non lo so a me non ha convinto per niente io gli ho dato due stelline forse sì due stelline perché comunque era un libro finito non mi interessa neanche fare ulteriori riflessioni sul libro eccetera eccetera a me è un libro che non è piaciuto quindi mi sono fondamentalmente un po' annoiata e un po' infastidita perché c'erano proprio delle cose che non tornavano dal punto di vista grammaticale di stile di scrittura eccetera eccetera e ho capito poco l'intenzione cioè non ho capito bene dove voleva andare se non a rappresentarsi e autorappresentarsi ecco vabbè figurarsi se avevamo tutte le batterie cariche ma ora ricominciamo dopo diverso tempo che cercavo di leggerlo mi sono ascoltata in audiolibro Città sommersa di Marta Barone che mi è piaciuto moltissimo forse devo dire che anche in questo caso un po' come per Giulia Caminito ho trovato la dimensione orale molto vicina all'intenzione della scrittura e quindi forse era anche l'opzione migliore posto che a me è piaciuto tantissimo devo dire non riesco a capire del tutto se mi ha affascinato così tanto la storia perché comunque in Città sommersa c'è la riflessione sul rapporto col padre un padre che ormai non c'è più perché è scomparso e il recupero di una storia che in qualche modo ti destabilizza tra l'altro che ho scoperto essere peraltro molto vicino alla storia di Nina Bunievak tra l'altro con storie abbastanza simili in questo caso Marta Barone scopre a distanza di tanti tanti anni che il padre aveva partecipato a delle azioni sovversive considerate sovversive era stato anche condannato insomma diciamo gruppi di lotta armata possiamo chiamarli e quindi in questo caso un rapporto che per lei non c'è mai stato non è mai stato forte diventa in questo caso una sorta di vuoto nella sua esistenza che lei cerca di colmare e ricostruire quasi in una maniera che poi diventa ossessiva perché la curiosità la spinge ovviamente a cercare di raccontare questa storia per raccontarsela e riuscire in qualche modo da recuperare i figli con una figura che per lei non è mai stata centrale che ha avuto un rapporto molto blando con la figlia e la scrittura di Barone in questo caso secondo me rappresenta bene come quest'operazione che Marta fa a distanza di anni dove è coinvolta emotivamente ma è anche molto distante dal punto di vista banalmente emotivo in alcuni punti invece diventi ossessivo e qua ci riesce benissimo è molto molto adatto e niente io vi devo dire che mi è piaciuto tantissimo e quindi vi consiglio tanto questo libro anche perché ha un tema molto affascinante io comunque sono affascinata da questo tipo di storie e vedere come si possa recuperare un rapporto postumo è un'operazione molto interessante infatti come vi dicevo voglio anche recuperare Faderlandini da Bunievac proprio per un motivo molto simile insomma anche per Marta Barone super approvazione gli ho dato quattro stelline pienissime bellissimo e mi è piaciuta tanto tanto anche la scrittura oltre che la storia vi devo essere molto sincera passiamo a un altro saggino perché quest'anno è l'anno dei saggini cioè non ho letto praticamente nulla a livello di romanzi ma in compenso saggini bombazza altro saggio che io ho amato non solo perché l'ha scritto la mia beniamina cioè Nicoletta Vallorani insieme ad Anna Pasolini ma i corpi magici scritture incarnate nel fantastica e nella fantascienza è un saggio che riflette sul corpo ce ne sono tantissimi di saggi legati ai corpi ma questo perché è bellissimo non solo perché l'ha scritto Nicoletta e qua siamo bimbe di Nicoletta ma perché fondamentalmente si approccia alla riflessione sui corpi alla loro rappresentazione dentro il mondo del fantastico e della fantascienza attraverso la scrittura di Angela Carter Jeanette Winterson James Tiptree Jr Bernardine Varisto Octavia Butler chi sto dimenticando anche i Jameson insomma tramite la riflessione prima generale intanto su che cosa può essere inteso come fantastico quindi come modalità attraverso la quale rappresentare il mondo distanziandosi e creando in qualche modo delle dimensioni parallele allo stesso tempo alla dimensione legata al corpo e come il corpo diventa un elemento fantastico di autorappresentazione e di rappresentazione attraverso poi ovviamente la scrittura che non è la scrittura diciamo di narrativa generale è una scrittura profondamente legata al tema della corporeità e della rappresentazione dei corpi nella loro autoaffermazione e diciamo nella loro rappresentazione anche politica ok in questo caso attraverso la scrittura di sei grandissime autrici è un saggio che io vi consiglio allora a livello di accessibilità è medio cioè non è il saggio più accessibile della storia della letteratura questo sicuramente allo stesso tempo non è assolutamente così complicato richiede chiaramente un po' di sforzo in più rispetto un saggio diciamo entry level ecco però assolutamente consigliato se poi cercate qualcosa che abbia a che fare con il legame con il corpo che non sia banalizzante che non sia volemose tutte beh siamo tutte fighe ma una riflessione profonda su come il corpo diventa uno strumento anche per la scrittura di lotta politica sociale eccetera eccetera soprattutto in ambito fantastico fantascientifico che sapete essere importantissimi per me quanto meno ok poi arriviamo a quello che per me e io già ve lo dico è il mio libro dell'anno a meno che non abbia sconvolgimenti però voglio assolutamente che venga messo a verbale che A Dowery of Blood di G.T. Gipson è un libro meraviglioso ho paura a dirlo ad alta voce perché di solito quando io parlo di libri molto belli poi le prendono le case editrici che a me non piacciono in Italia quindi non osate farlo ok però in pratica in questo caso A Dowery of Blood è la riscrittura della storia di Dracula fondamentalmente ripescando anche tra l'altro alcune parte dello stile dell'impostazione dall'opera originale però dal punto di vista della moglie di Dracula di una delle moglie di Dracula ecco che in questo caso però vuole rappresentare ciò che Dracula è stato per lei e ciò che questo rapporto per lei nel corso degli anni ha rappresentato è magnifico è un libro magnifico prima cosa riscrivere Dracula dal punto di vista di una delle sue mogli significa affrontare fondamentalmente il tema della violenza domestica il tema della relazione tossica il tema dell'abuso e in questo caso quando ci metti una scrittura assolutamente lirica bellissima estremamente efficace fai centro cioè fai proprio cento al cento per cento cioè fai super centro e nel mio piccolo cuore gotico di ragazza macabra che comunque è stato bellissimo tra l'altro vabbè io faccio fatica a leggere in generale questioni di abuso domestico comunque violenza sulle donne cioè non è una cosa che insomma si legge granché volentieri ma fate conto che l'ho iniziato in un pomeriggio l'ho finito la sera perché non riuscivo ad abbandonarlo è incredibilmente meraviglioso davvero davvero bellissimo perché? perché è intenso perché è un libro molto intenso e molto denso cioè ogni parola ogni riflessione della nostra protagonista è un percorso per lei tanto per noi per capire le implicazioni di tutta questa storia anche la sua riflessione sul distacco che deve per forza affrontare la figura del marito amatissimo e quasi venerato che a un certo punto però inizia in qualche modo a mettere in discussione forse a vedere non con la sacralità e con la riverenza del primo tempo spogliato ovviamente di tutte le parti diciamo più sentimentali inizia ad osservare come la sua sia totale manipolazione e quanto questa manipolazione sia una cosa di cui lei non riesce a liberarsi con grande facilità anzi infatti è perfetto poi tra l'altro il simbolismo che ha il vampiro all'interno di questo ciclo che sembra senza fine quello delle relazioni tossiche più che tossiche relazioni violente relazioni manipolatorie e dello squilibrio all'interno delle coppie che poi questa non è una coppia ma perché ovviamente parla e affronta il tema della relazione poliamorosa essendo poi Dracula non monogamo ecco e nessuno dei componenti di questa famiglia affronta una relazione monogama qua viviamo cioè attraverso anche gli occhi della moglie di Dracula una relazione poliamorosa di stampo biromantico parromantico insomma lì non c'è una definizione perché non c'è l'intenzione di dover parametrare questa cosa semplicemente mostrare come questo nucleo si allarga cambiano le dinamiche di alcuni aspetti del diciamo del nucleo ma fondamentalmente se ne ripetono molti altri a di là di questo che secondo me è una parte delle cose per cui questo libro è prezioso ha un'intensità incredibile e soprattutto una bellezza nella scrittura un'eleganza una liricità nel rappresentare il dolore la violenza la brutalità gotica qui non manca e rafforza solo l'idea che sia una dualità molto vicina a quella della violenza all'interno della coppia e comunque in generale delle relazioni è bellissimo è un libro meraviglioso proprio un debutto che io non lo so ma mi correggo non è un debutto sono andata a controllare perché mi è venuto il dubbio ma Esty Gibson sei nel mio cuore per sempre dopo questo libro sapete quando fanno allora io non sono una fan dei retelling perché tendenzialmente sono a ribasso da un sacco di altre cose soprattutto quando tocchi Dracula ok toccare Dracula è pericoloso perché intanto stai toccando qualcosa di quasi sacro con una profondità tematica ineguagliabile per tanti punti di vista però questa riproposizione che da un lato ripesca a grandi linee la storia di Dracula alcune alcune impostazioni dell'opera originale li ribalta se ne riappropria e riappropriandosi anche delle parole riesce a riappropriarsi della propria storia della propria voce e riconquistare anche la propria libertà tramite anche questo è bellissimo allora spucciando nella mia galleria mi sono salvata tutte le per farvi capire la bellezza I never dreamed it would end like this my lord your blood splashing hot flicks onto my nightgown and pouring in rivulets onto our bedchamber floor but creatures like us live long time there is no horror left in this world that can surprise me eventually even your death becomes its own sort of inevitability but you found me alone my lord beaten down to a shadow of my former self and very near death he was as though fate had laid me out for you on a resistible banquet of promise you say of potential I say it was vulnerability potrei leggervi vi giuro tutti gli screenshot che ho fatto perché l'ho letto in ebook ed è bellissimo ragazzi è bellissimo è bellissimo è bellissimo quindi sperando che lo portino anche in Italia leggete ad ovri of blood poi è perfetto per questo periodo preparatevi perché è proprio fiume di lacrime sia dalla bellezza di ciò che leggerete come forma sia perché oggettivamente è bellissimo una storia che vi proprio ucciderà dentro ma non so come dire è quel tipo di morte che un po' volete cioè ognuno di noi un po' dentro vuole un po' vabbè forse non ognuno di noi però leggetelo poi passiamo a un altro titolo che io ho letto qua mi dice che ho finito a giugno e in effetti è passato un po' di tempo l'avevo iniziato da diverso tempo ci ho messo un bel po' a leggerlo perché mi ero fermata ovvero she who became the son di shelly parker chan titolo molto discusso quest'anno perché è un debutto molto molto apprezzato titolo di debutto che ha a che fare con una serie enorme di temi che hanno a che fare con il genere con la non binarietà ma anche tanto altro anche la guerra come la guerra si infila dentro queste dinamiche come il rapporto familiare il rapporto tra le persone possa essere parte del conflitto interno e anche dei giochi di potere che governano invece una dimensione molto più ampia che non riesce a toccare mai la vita delle persone in maniera significativa ma diventa qualcosa di estremamente lontano dalla dimensione invece microscopica che hanno le storie e anche se a volte si intersecano e si intrecciano make sense anyway allora She Who Became the Sun a me è piaciuto molto io lo trovo un debutto ottimo ottimo da tantissimi punti di vista primo perché riesce innanzitutto a rappresentare la non binarietà o la non aderenza alla binarietà in una forma molto furba molto funzionale ed estremamente efficace quindi e Shelley Parker Chan riesce a farlo benissimo su questo aspetto che fondamentalmente è la parte centrale dell'opera perché da questo snodo che riguarda i personaggi principali si snoda tutto un altro elemento della storia più ampio cioè il fatto di non riuscire ad identificare altri aspetti come fissi nel tempo nella società nella politica non so neanche se ha senso quello che sto dicendo però io ho visto questa dualità tra ciò che succede agli agenti alle persone che subiscono questi conflitti e anche a come a livello più ampio ci sia comunque questa discrepanza ecco se devo dire cosa non mi ha convinto di questo libro è sicuramente un pochino sia lo stile di scrittura che il ritmo che io ho trovato molto discontinuo molto disomogeneo e non estremamente efficace quindi forse la cosa che mi ha convinto meno è questo aspetto che per me è molto importante ecco mentre tutto il resto mi ha appassionata interessata eccetera ho faticato molto a non trovare dei difetti nella scrittura sicuramente non è pessima anzi tutt'altro è molto buona ma deve lavorare moltissimo sul ritmo perché il ritmo a un certo punto diventa proprio stagnante e sapete che a me piacciono i libri più buoni stagnantissimi ma proprio a dei livelli protratti fino all'esasperazione qua secondo me cioè non è una cosa voluta è proprio è un difetto ecco che sarebbe stato sistemato con sfiluzzato magari tagliate alcune parti ecco oppure semplicemente alleggerite o rese più dinamiche non lo so però c'è un punto nel libro che proprio diventa stagnante e diventa un punto proprio il fossato di Elm è lì altre cose che semmo ma non convinto è proprio il tipo di scrittura che trovo piuttosto grezza in alcune parti e ci vedo meno in tensione ecco in quella rispetto invece alla grande brillantezza e la grande lucidità che c'è nell'espressione della storia e delle sue tematiche quindi diciamo per me She Who Became the Sun bellissimo libro super debutto con un po' di riserva ecco non sto gridando al miracolo ne sto gridando alla cosa migliore mai scritta anzi secondo me c'è da lavorare un po' sulla scrittura ma bellissimo super bello anche questo ve lo consiglio il dot 4 stelline comunque perché va premiata secondo me le cose interessanti fuori dall'ordinario e non usuali ecco poi c'è tutta la sfilza di saggini queer dall'inizio dell'anno a dopo ma direi che per quello vi rimando al video dedicato così potete approfondire nel dettaglio e balzo subito a un grande regalo che è da parte di Michela che si chiamano le figlie di Salem di Thomas Gilbert che è un fumetto che fondamentalmente riprende ovviamente la caccia alle streghe come inizia a Salem che tra l'altro abbiamo affrontato anche insieme nel podcast ovviamente della figura della strega che ogni tanto bisogna tirarlo fuori visto che ci ho lavorato una strada comunque le figlie di Salem è un fumetto che secondo me è molto carino ecco e che rappresenta bene il non so come dire il declino verso il degrado della società quando la società fondamentalmente finisce in preda ai deliri patriarcali non voglio dire dei deliri che è un po' come si racconta sempre no il periodo della caccia alle streghe come se fosse una grande follia collettiva esasperazione collettiva non c'è nulla di tutto questo nella caccia alle streghe c'è un piano ben determinato di soppressione della libertà di genere e in questo caso devo dire che lo riesce a rappresentare molto bene questo fumetto anche perché poi fa un parallelismo che secondo me è sempre molto adatto anche se con le dovute distinzioni perché tra le nostre personagge che sono delle ragazze che vivono a Salem e che quanto pare commettono crimini inenarrabili semplicemente per fare cose banalissime come cantare divertirsi e il rapporto che hanno instaurano trovando un nativo americano che vive nei dittorni questa cosa qua ovviamente è una parte un po' forzatina ecco però dal lato la diffidenza dall'altro lato si nota come la diffidenza verso le soggettività abbiamo finito? dall'altro lato però questo dualismo tra persone native e donne che sono state fortemente represse dalle società ovviamente dagli uomini da chi era il comando delle società vicino Salem sia stato molto efficace dal punto di vista anche proprio banalmente dei disegni ecco c'è questa sorta di pulizia iniziale questi colori molto vivaci eccetera che mano a mano si scuriscono mano a mano i tratti si fanno più violenti il nero diventa molto prevalente si esce sempre di più dalle definizioni dei parametri delle piccole scene prendendo il sopravvento perché diventa davvero una spirale violentissima sempre più violenta e sempre meno controllabile questo mi è piaciuto molto ecco ho dato tre stelline perché comunque secondo me è un'opera molto carina ecco se avete a che fare con l'ambito streghe se è una cosa che conoscete abbastanza bene secondo me non aggiunge null'altro però allo stesso tempo perché non leggere di streghe tutto il tempo che è l'unica cosa che io vorrei fare va bene e niente e ve lo consiglio ultime due letture per questa parte poi in realtà ho più libri in sospeso che libri letti ma questo ne avete già indovinati almeno due che non ho portato in questo video secondo me giunti a questo momento tipo harrow gli ultimi due titoli sono Misfits A Personal Manifesto di Michaela Coyle Michaela Coyle è protagonista scrittrice regista artista incredibile persona nell'universo posso dire persona che più di tutte secondo me ora è riuscita a rappresentare tante cose io le sono molto affezionata ho letto Misfits A Personal Manifesto che è ripreso da un suo discorso in un evento simile di TED Talk credo ed è allargato perché Michaela affronta molti temi tra cui quello della violenza quello della violenza sessuale quello dell'essere una donna razzializzata e quello di essere una donna povera perché al di là di donna di essere una persona povera come ha detto sempre lei in diverse interviste prima di essere una donna io sono stata nera e povera e questo ha scandito la mia esperienza più di tutto il resto la percezione dell'essere donna è avvenuto molto dopo ed è diventato un fattore aggiuntivo nella sua storia come decretato anche da una serie di dinamiche e una serie di vicende che le sono capitate durissime che affronta anche in quella che è un'opera tanto autobiografica quanto non solo che è I May Destroy You che è una serie che io vi consiglio proprio spassionatamente ne uscirete devastate ma è bellissima è qualcosa di incredibilmente valido e che secondo me dovrebbe essere quasi obbligatorio vedere per rimanere un'altra volta un po' traumatizzate perché noi siamo traumatized baby allo stesso tempo bellissimo e niente quindi A Personal Manifesto riprende tanti dei temi che Michaela secondo me affronta in questo caso è una sorta di pamphlet di autocoscienza e allo stesso tempo rivoluzionario e allo stesso tempo una chiamata anche al diciamo alla riflessione su tanti punti che determinano le nostre vite soprattutto quelle di chi fa parte di queste sorte di misfits cioè i misfits sono le persone marginalizzate reiette incontrollabili che probabilmente non stanno zitte che probabilmente hanno bisogno anche di cercare in parte di autodeterminare la propria storia e di raccontarsi e tutto questo per raggiungere fondamentalmente l'obiettivo quello di riclamare il proprio potere attraverso la propria creatività e come la propria creatività non debba essere qualcosa di imbrigliato in dinamiche altre ok ma che in qualche modo ricerchi la verità ricerchi l'autenticità che proprio i misfits hanno le persone misfits hanno e niente io amo Micaela quindi dire le voglio tanto tanto bene e questo manifesto radicale per tanti punti ma che ti riporta una dimensione molto concreta e leggete misfits siamo arrivati in fondo perché effettivamente ora vi parlo di The Atlas Six di Olive Plague che è un libro autopubblicato che adesso però è stato acquisito ed editato da Thor negli ultimi giorni mentre l'ho letto nella versione originale che dire The Atlas Six secondo me è un'operazione super interessante per alcuni versi primo perché ripesca l'ambito della Dark Academia che come sapete io detesto perché borghesi e non potendo eliminarli tutti no scherzo volevo dire e da un lato riprende l'ambientazione ma no che cazzo riprende la Dark Academia vabbè personaggi con capacità che devono fare cose dentro un ambito esclusivo ok noi seguiamo questi nostri Atlas noi ci dobbiamo immaginare in questo mondo dove la biblioteca di Alessandria ha acquisito nuove forme cioè è stata in qualche modo preservata e salvata da questa società segreta ok che ha il compito di trasmettere e di conservare tutta l'eredità della biblioteca e di proteggerla da attacchi esterni posto che questo è il pretesto ma poi dentro la storia questo serve il giusto ci serve come introduzione a capirne tutte le implicazioni e tutti i temi e mano a mano che il tempo procede bisogna selezionare delle nuove persone che avranno come compito quello di salvaguardare la biblioteca di meglio di sei persone dotate di capacità straordinarie in questo mondo dove effettivamente la magia c'è anche se è ovviamente non manifesta in questa situazione vengono recuperati appunto questi sei personaggi che hanno capacità molto diverse tra loro hanno background molto diversi tra loro che da un lato devono assolutamente cercare di mantenere e riservare un posto dentro la cerchia di chi viene effettivamente eletto come guardiano o guardiana della biblioteca di Alessandria dall'altro lato però dovranno anche in qualche modo cercare di far funzionare il gruppo perché per proteggere una cosa così preziosa bisognerà iniziare a ragionare anche in sinergia mettendo in circolo i poteri in modo che siano funzionali anche al gruppo potenziati ed amplificati dal gruppo storia assolutamente trainata dai personaggi quindi c'è molta introspezione c'è una costruzione della storia che si basa sulle storie dei personaggi e questo assolutamente a me piace molto la scrittura secondo me è assolutamente non male posto che ci voleva un editing un po' più concreto però devo dire che per essere un debutto autopubblicato io non ho mai letto una roba autopubblicata di così alto valore quelle che mi propongono di solito sono delle robe horror e non in senso di genere letterario e devo dire che l'altra cosa affascinante è tutto ciò che riesce a mescolare a mettere insieme ho le play in questa cosa che è funzionalissima cioè da un lato noi abbiamo una storia che comunque parte da dei presupposti affascinanti riesce a non essere mai eccessivamente borghese che sapete che a me dà un sacco fastidio della Dark Academia mazzerai tutti dal primo all'ultimo in personaggio invece qua devo dire che comunque c'è un fuck the system un'altra che non gliene frega niente che comunque è poverissima quindi deve lavorare ed è molto concreta in questi ambiti vabbè ci sono anche una serie di riflessioni sulla classe come sempre ma non banalizzate come secondo me fa Donna Cart l'ho detto l'ho detto vabbè e quindi in pratica io ve lo consiglio è un libro divertente solido funziona ho visto reagire in maniera concreta secondo me e anche sensata i vari personaggi nel corso della loro evoluzione mentre evolve tutta la dinamica ecco non aspettatevi un libro dove succedono mille cose so che i presupposti sembrano poter dire boom succede di tutto in questo libro in questo libro non succede niente perché il punto non è mai la storia in sé quanto lo sviluppo e della consapevolezza dei personaggi e come tra di loro devono interagire ci sono tutti gli elementi giusti c'è un po' di mistero c'è un filo di romance di cui non frega assolutamente nulla c'è una personaggia come Reina che cuore per sempre perché non gliene frega nulla di niente gli fanno schifo tutti e dal potere più ovviamente un raw power la riflessione sul raw power secondo me viene fuori bene tramite il suo personaggio frega cazzo proprio divertente funzionale fa il suo intrattiene intrattiene in maniera sana giusta divertente con riflessioni anche secondo me un po' più compiute quindi se vi piace l'ambito dark academia cose oscurette eh questo è un urban fantasy che funziona ecco molto meglio di cose molto più celebrate io direi che siamo arrivati in fondo siamo arrivati in fondo è incredibile spero non duri una vita questo video forse vabbè ma comunque insomma stiamo tornando piano piano a ottobre vorrei portare diversi video visto che comunque c'è il compleanno del canale e quindi bisogna organizzare qualcosina per il compleanno del canale ecco magari se avete una lista una wish list di cose che vi piacerebbe ascoltare sentire anche suggerimenti di video che vorreste vedere a prescindere sentiamoci giù nei commenti così insomma sento anche da voi un pochino il vostro parere sono contenta di essere qui di aver fatto un nuovo video ho di nuovo una frangia dopo un sacco di tempo senza perché d'estate non si taglia la frangia scusate non sto delirando se siete riusciti ad arrivare alla fine io comunque come sempre vi voglio un sacco bene e vi stimo perché non è da tutto e niente dai insomma fatemi sapere anche se tra queste cose che ho un po' raccontato oggi tra queste letture un po' deliranti affrontate molto velocemente con delle riflessioni molto veloce c'è qualcosa che vi ha ispirato e niente io direi che per oggi può essere tutto ci vediamo nei prossimi video che dovrebbero arrivare in un tempo ragionevole e direi che per il resto ci vediamo al prossimo video sempre sempre lì arriviamo dai ciao stelle ciao stelle